Ogni ospedale avrà la sua specialistica nell'ottica di potenziare la rete assistenziale dell'ASL Napoli 3 Sud. Il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio fa il punto della situazione ai microfoni di TV City sul futuro dei presidi di Torre del Greco e Bosco Trecase, Covid hospital di riferimento dell'azienda sanitaria. Direttore sanitario aziendale dell'ASL Napoli 3 Sud Gaetano Donofrio, l'emergenza coronavirus sembra ormai alle spalle. In questo momento al Covid hospital di Bosco Trecase quanti pazienti ci sono ricoverati? Sei pazienti che sono in condizioni ordinarie, ciò vuol dire che hanno un supporto di ossigeno ma non sono né intubati né stanno con i caschi di CIPAP praticamente, il che vuol dire che ogni tanto hanno questo accompagnamento per la saturimetria, quindi l'ossigeno, ma le condizioni sono riscrete. Quale sarà il futuro dell'ospedale di Bosco Trecase a medio e a lungo termine? Da articoli di stampa si apprendeva della volontà di un potenziamento, di realizzare reparti di eccellenza? Ma innanzitutto c'è da dire che l'ospedale di Bosco Trecase nella visione della direzione strategica fa parte della rete ospedaliera. Cioè vorrei innanzitutto sgombrare il campo del concetto che ci sia qualche ospedale che sia un po' a sé stante rispetto agli altri. Quindi l'offerta sanitaria che noi prevediamo è complessiva, quindi ogni ospedale avrà delle sue caratterizzazioni. Per quanto riguarda l'emodinamica, secondo il piano ospedaliero le due emodinamiche saranno una a Nola e un'altra a Castella a Mare. Ovviamente per Castella a Mare si devono fare dei lavori in quanto le attuali strutture non sono abbastanza ben organizzate per poter offrire un'emodinamica di tipo moderno. D'altronde Bosco Trecase ha un'apparecchiatura che è di Castella a Mare e quindi temporaneamente laddove ci fossero casi di infarto o quant'altro ovviamente utilizzeremo quella struttura. Fino a quando la struttura sarà Covid ospedal di riferimento di tutta l'ASL? Guardi, tecnicamente la norma prevede fino al 31 gennaio 2021, la norma nazionale. Ovviamente il punto interrogativo è questo autunno, ovvero se in questo autunno si manifesterà questa famosa seconda ondata ma soprattutto se eventuali positivi della seconda ondata avranno bisogno di assistenza ospedaliera. Per quanto riguarda invece Torre del Greco, proprio nei tempi dell'emergenza si parlava di ampliare il reparto di riabilitazione anche con la riabilitazione respiratoria. A che punto siamo? Allora innanzitutto Torre del Greco posso dare un annuncio che già questa settimana abbiamo iniziato ad operare i pacchi ortopedici, cioè in buona sostanza abbiamo iniziato a fare quelle prestazioni ambludali coordinate e complesse che sono una innovazione organizzativa rispetto al ricovero tradizionale o al de-ospita. Quindi stiamo attrezzando ogni ospedale a seconda ovviamente quelli che sono i contenuti tecnologici e anche strutturali per offrire un'opportunità all'utenza. L'offerta ortopedica vede i pacchi dell'azienda per la parte diciamo sud, usiamo questa espressione, che va da Castellammare a San Giugiancremano in Torre del Greco con i pacchi. Per quanto riguarda l'abilitazione stiamo aspettando che la regione Campania tramite Soresa ci dia i progettisti perché praticamente abbiamo già pronti anche i fondi per poter realizzare il reparto. Attualmente noi a Bosco Tre Case per i pazienti covid positivi abbiamo attivato una riabilitazione precoce, cioè il paziente covid positivo già sta facendo riabilitazione respiratoria tramite i nostri pneumologi riabilitatori con esperienza più che 20 anni al Maugeri e con i nostri fisioterapisti. Al Maresca è partito nei giorni scorsi un ambulatorio cardiologico per gli esterni diretto dal dottor Angelo Nocerino. Tra le altre novità l'avvio di prestazioni ambulatoriali coordinate e complesse, un'innovazione organizzativa rispetto al ricovero tradizionale o al day hospital. È un ambulatorio di secondo livello perché altrimenti poi ci confondiamo rispetto agli ambulatori to cure. Gli ambulatori to cure di primo livello, quindi quelli diciamo basic possiamo dire, sono di pretta pertinenza territoriale. Lì dove ci sono ambulatori in cui vuoi per le tecnologie, vuoi perché chiaramente i pazienti affrontano prove più a rischio e quindi occorre una maggiore copertura in termini di assistenza e tecnologie, noi abbiamo individuato gli ospedali. D'altronde noi non siamo un'azienda ospedaliera, quindi come tale il terzo livello non ci compete. Dobbiamo offrire ai nostri cittadini un buon livello di primo e secondo. Nell'ottica appunto di questa rete vogliamo spiegare per ciascuno ospedale quali saranno le specialistiche previste? Per quanto riguarda il greco avrà una chirurgia, una medicina, una riabilitazione e poi avrà quella che praticamente sono una gastroenterologia e una serie di prestazioni di desageri e di PAC, perché questa è la vocazione anche perché tecnicamente il torno del greco ha solo due camere operatorie. Bosco tre case che per motivi non diciamo soggettiva, semplicemente perché è uno ospedale più moderno, strutturato alla fine degli anni 90, quindi con molti più spazi, avrà invece una medicina d'urgenza, una medicina generale, una chirurgia, una ortopedia, ortopedia per quanto riguarda gli interventi chiaramente da ricovero ordinario, mentre a torno del greco, come ho detto, sono cento i pac, avrà una polemologia, un utusir, una utic cardiologia, una rianimazione come già abbiamo inaugurato.